Siamo con Patrizio Bimbi, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, questa è la Baganza, oggi si chiude la campagna elettorale, cosa vi aspettate domenica? Allora, noi ci aspettiamo innanzitutto che i cittadini partecipino, che ci sia meno senteismo possibile e che comunque ci sia un voto cercato, meditato e approfondito, non ci sia un voto clientelare, non ci sia un voto di convenienza, ma ci sia un voto di approfondimento sulle tematiche che dovrebbero portare un'alternanza nell'amministrazione di Sala Baganza, per dare a Sala Baganza quel futuro che 40 anni di monocolore politico a livello amministrativo tutt'oggi stenta ad arrivare.